Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi molto probabilmente concluderemo questo calciomercato che è stato veramente infinito e che ancora deve finire, ancora possono succedere un paio di cose molto particolari infatti adesso andremo subito a vedere però sicuramente vedremo anche la partita di campionato contro l'Everton per il momento veniamo addirittura da 2-4 a 0 consecutivi quindi sicuramente abbiamo avuto un ottimo esordio in Premier e poi ragazzi appunto arriveremo al mese di settembre dove teoricamente ci sarebbe anche la partita con la nazionale comunque ragazzi come al solito prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione ma anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che è comunque in descrizione detto ciò ragazzi iniziamo subito a fare questi discorsi di calciomercato perché allora praticamente nella scorsa puntata ci siamo lasciati con la partenza di Inbetè e quindi questo vuol dire che ci serve un nuovo difensore centrale da mettere sul centro-sinistra quando in pratica non gioca in Dicaa e infatti sono andato a controllare un pochino sono andato a cercare e ho trovato qualche giocatore interessante l'unico problema tra virgolette è che sono giocatori che vanno seguiti quindi bisognerebbe aspettare l'osservazione però qual è il problema? semplicemente il tempo perché da qui alla fine del mercato passano meno di 10 giorni e per le osservazioni ce ne vogliono minimo 12 quindi sicuramente non sarà semplice l'unico che ci vogliono solamente 6 settimane è Estevec che secondo me dovrebbe essere tipo sull'82 quindi potrebbe essere un buon giocatore molto alto un bel difensore non l'abbiamo mai utilizzato quindi appunto mi piacerebbe anche utilizzare un giocatore mai utilizzato in passato però la cosa che spero io è che arrivati all'ultimo giorno di calciomercato ci sia almeno il valore del giocatore così diciamo che uno può organizzarsi e diciamo ponderare quanto sia di overall perché per esempio quando alla fine verremo a sapere quant'è di overall Estevec quindi vale 28 milioni e mezzo noi verremo a sapere appunto che lui che vale 28 milioni e mezzo è tanto di overall poi se vengo a sapere il prezzo di qualcun altro senza però finire a sapere effettivamente l'overall posso farmi una mezza idea per esempio ci sarebbe anche questo Koulibaly che ha anche il contratto di scadenza quindi potrebbe essere molto utile molto vantaggioso come acquisto adesso l'unica cosa che ovviamente possiamo fare è andare avanti far scorrere le giornate e aspettare che accada qualcosa per esempio che continuino ad arrivare le offerte per i nostri giocatori ancora per Nianzu questa volta tocca a Moshengladbach come al solito il prezzo per Nianzu è di 120 milioni che a mio parere è praticamente impossibile che appunto la squadra tedesca accetti questa cifra infatti rifiudono anche loro a prescindere offerta anche per Salvatore Guerra che sarebbe il nostro giovanotto che è già un 69 a 18 anni un giocatore molto molto promettente che quindi voglio mantenere come terza scelta quindi sicuramente un giocatore come lui non lo faccio mai partire comunque il resoconto di STP arriva è effettivamente un 81 quello che mi serve sarebbe veramente perfetto comunque fatemi vedere se le cose qua si stanno muovendo per esempio qua 6 giorni però ancora che non si sa il prezzo anche di quelli che appunto ci vogliono solamente 6 giorni io sono molto curioso sinceramente di Koulibaly vi dico la verità però se alla fine in un certo senso sarò costretto tra virgolette a prendermi Koulibaly scusatemi a prendere STV mi andrà bene anche lui comunque vabbè qua la convocazione per l'Inghilterra ma lo faccio un attimo ok ragazzi ho fatto ci tengo a menzionarla questa cosa perché finalmente convochiamo anche Harvey Veil che è diventato un 88 quindi levo Rashford per mettere lui diciamo che Harvey Veil andrà a fare il sostituto di Bukayo Saga adesso diciamo ve la metto anche in campo la formazione per essere più precisi ecco qua praticamente ci siamo squadra 1 squadra 2 quindi cambiano tutti gli 11 quindi Veil giocherà nella seconda squadra alla fine Harvey Elliot devo dire che è cresciuto tanto teoricamente sulla carta è un C.O.C. però lo metto come centrocampista centrale comunque alla fine può giocare tranquillamente in quella posizione anzi forse se lo metto di qua gioca pure meglio sì non ha nessun meno quindi dovrebbe andare meglio così comunque vabbè dettagli alla fine questo qui questa qui è la nostra nuova Inghilterra non ha chiamato nulla allora torniamo chiaramente però al Salford con vocazione per i nostri Ramsdale e Harvey Veil quindi sicuramente un'altra bella soddisfazione infatti esce anche scritto Inghilterra Ramsdale e Harvey Veil comunque offerta ancora Popa cioè comunque per Popa da parte dell'Eister come sempre la valutazione di Popa è di 75 milioni di euro che è un'offerta molto molto alta ma proprio perché non la voglio vendere quindi vado a sparare veramente alto l'Eister che non rifiuta a prescindere però devo dire che ci va molto vicino la tensione è salita di tanto quindi non credo che se vado a riproporre per una seconda volta la stessa cifra cambierà qualcosa infatti non cambia nulla la ripropongo per una terza e stavolta sì salta la trattativa comunque ragazzi attenzione perché ho dato una sbirciatina al calendario e ho visto che è stato fatto il sorteggio di Champions purtroppo purtroppo è stato fatto il sorteggio di Champions non so perché è capitata l'unica squadra che non volevo beccare e infatti siamo nel girone del gruppo A con Atletico Madrid, Wolfsburg e Basilea forse in un certo senso l'Atletico Madrid è meglio beccarlo che in seguito sicuramente però ragazzi sta di fatto che l'Atletico Madrid è una delle squadre più forti su FIFA perché è veramente imbattibile a tratti se giocano come abbiamo visto nella bichevole estive mi sa che non abbiamo speranze però alla fine per un eventuale secondo posto non mi faccio alcun problema perché Wolfsburg e Basilea dovrebbero essere alla nostra portata come sempre un'occhiata agli altri girondi Real Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Celtic City, Leverkusen, Sporting, Bruges Barcellona, Monaco, PSV e Slavia Praga PSG, Inter, Real Betis e Shakhtar Donest Manchester United, Atalanta, Salisburgo e Copenhagen Juventus, Dortmund, Porto e Sava Bucharest e per finire Liverpool, Milan, Rennes e a Dinamo Kiev detto ciò ragazzi direi che possiamo scendere anche in campo contro l'Everton per poi andarci a prendere finalmente questo nuovo difensore centrale e finire il precampione cioè comunque il calcio mercato estivo allora ragazzi in porta Ramsdale poi Cucureghi, Andicani, Anzuggia e Truvida Kiergald, Florentino, Baturino a centrocampi in attacco Nico Williams, Rodrigo Ribeiro e RB Vero praticamente ragazzi siamo con la formazione titolare al 100% sarà l'ultima volta perché dalla partita successiva con il Southwood inizieremo a fare tanti cambi perché inizieranno a giocarsi tante partite nel giro di pochissimi giorni faccio pari in avanti Rodrigo Ribeiro riesce a servire Nico Williams che va subito a piazzare il pallone arriva la rampa da parte del portiere Virginia che io so essere un portiere molto forte e qui Baturina viene chiuso lo conosco perché nella carriera con lo Stocco Portolo l'ho avuto per un paio d'anni ed è stato molto importante e occhio che possiamo provare ad avanzare Rodrigo Ribeiro col Mancino l'alza molto bene Hervie Veil Sterza Hervie Veil c'è l'inserimento da parte di chi è guarda che va col Mancino e ancora Virginia che tiene l'Averton a galla e occhio possiamo andare Nico Williams buona la palla dentro Rodrigo Ribeiro l'appoggio chi è guarda che decide di andare col destro ma prova ad andare comunque col Mancino provi a metterci un po' di esterno è peccato ragazzi termina anche il primo tempo 0-0 all'intervallo stiamo giocando bene praticamente non abbiamo concesso nulla quindi si aspetta solamente il momento del gol che speriamo possa arrivare il più presto possibile occhio qui però Rodrigo Ribeiro riesce a passare poi a servire Hervie Veil Hervie Veil prova ad andare direttamente lui in porta prova ad andarci col destro ma clamorosamente sbaglia tutto di solito non capita mai con Hervie Veil però ragazzi occhio qui all'Everton che ha l'opportunità non so come cavolo ha fatto Nianzu a prendere questo pallone può ripetire Ramsdale può bloccare il pallone comunque ragazzi attenzione perché abbiamo rischiato è rimasto anche Gettroide a terra speriamo che sia non sia nulla di grave comunque occhio Rodrigo Ribeiro riesce a tenere il pallone a servire Nico Willams però viene chiuso ragazzi la difesa dell'Everton si chiude molto bene si difendono molto bene partirà molto scorbutica arrivano anche i cambi ragazzi classici 5 cambi dentro Patino e Caicedo a centrocampo in attacco Gibbs Dià e Collen speriamo bene speriamo di sbloccarla sul finale possiamo avanzare Patino portapalla l'appoggio per Dià che prova da Zalla verso Collen il tacco perché Caicedo che si inserisce ancora dentro Collen che la piazza troppo debolmente col sinistro ma c'è ancora Gibbs che prova ad andare direttamente in porta ma viene chiuso dalla difesa e Cucurelia che qui non riesce ad anticipare è peccato ragazzi alla fine chiude addirittura l'Everton in attacco a tempo scaduto l'arbitro che non dovrebbe far più battere infatti arriva la fine della partita brutto 0-0 perché sicuramente meritavamo qualcosina in più non siamo stati brillantissimi ottima prova difensiva da parte dei nostri avversari però chiaramente partite come queste con l'Everton che in due partite aveva fatto 0 punti ovviamente mi aspetto di vincerle comunque ragazzi ci siamo ultimo giorno di calcio mercato adesso sarebbe veramente importante riuscire a prendere il nuovo difensore centrale addirittura guerra che viene richiesto da Manchester City ma come abbiamo detto e ridetto non mi interessa prendere al momento questo giovane comunque allora qua giustamente c'è la cosa dell'Inghilterra perché la prossima partita è con l'Inghilterra però a me mi interessa dare un'occhiata a Salford e quindi andare un attimo a vedere gli osservatori allora purtroppo ci sono giocatori che ci vogliono due giorni ma ancora non so quanto costano perché boh non l'ho capito in passato sinceramente non era così comunque fammi vedere se lo metto in lista trasferibile cioè comunque in hub mercato in lista preferiti e vado a cliccare sul giocatore mi esce qualcosa no mi esce proprio un tubo strano sinceramente in passato quando mancavano due giorni l'osservazione era molto più avanzata cioè gli osservatori 5 e 5 di stelle qualcosa dovrebbe voler dire niente invece manco questo ha più senso su FIFA comunque allora a sto punto sapete che cosa voglio fare voglio provare a fare tipo un salvataggio provare a prendere qualcuno e vedere poi quant'è di overhaul voglio farlo solamente con Koulibaly se non mi va bene Koulibaly provo a prendermi Esteve dell'Arsenal allora ragazzi non sapendo veramente ma veramente nulla provo a partire da una cifra che secondo me è neutra di 25 milioni vediamo che dicono che è un'offerta più che soddisfacente accettano subito sta cosa sinceramente mi preoccupo fino a un certo punto perché alla fine avevamo visto che era anche in scadenza quindi potrebbe essere che effettivamente costa poco anche per quello però vediamo lo stipendio qua veramente non ne ho idea vuole essere sporadico il che sinceramente è preoccupante secondo me è molto al di sotto dell'80 tipo 75 76 vediamo un po' lo stipendio che spero sia molto più basso purtroppo lo fa scegliere a me però io provo a fare tipo non so 70.000 dovrebbe andare più che bene infatti offerta equa vuole anche poco di stipendio quindi secondo me costa poco secondo me devo ricaricare il salvataggio fatemi vedere fatemi vedere forza forza addirittura F valore giocatore 11 milioni infatti ragazzi è un 76 ricarichiamo a sto punto ragazzi andiamoci a prendere steve che sappiamo quanto costa nella speranza che non sia tipo incedibile dall'arsenal altrimenti è effettivamente un problema eccolo qui sì ok perfettamente acquistabile 81 di overall come tio come ciao anche lui 25 anni se non sbaglio quindi sicuramente un sostituto più che degno 1 metro e 93 sembra essere bello forte dal punto di vista fisico quindi è un altro giocatore che potrebbe fare la differenza anche sui calci d'angolo cose così per il resto ragazzi sicuramente come sostituto direi che va benissimo ricordo che noi prendemmo un esteve quando eravamo con l'unì su fiva 22 se non sbaglio 21-22 non mi ricordo ormai già sono impazzito comunque però ricordo che era un centrocampista poi forse mi confondo con qualcun altro forse era qualche reggiano comunque lui mi sembra di non averlo mai utilizzato comunque mai come difensore centrale questo è poco ma sicuro allora l'offerta io direi di partire da 27 milioni secondo me è un'ottima base di partenza visto che a 30 si dovrebbe chiudere vogliono ricoli più altri soldini no 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 non mi interessa e non va bene facciamo 28 milioni di euro ecco qui vediamo un po' che ci rispondono 35 e mezzo improvvisamente ma io so perfettamente che se vado a offrire 30 milioni mi accetteranno infatti accetterete no 31.4 ho ragione io voglio fare 30 e dovrà essere 30 cifra tonda tonda e infatti hanno accettato allora vediamo un po' lui cosa vorrà essere turnover che è effettivamente quello che deve fare 5 anni di contratto per il 25enne francese nessuna caso del scisso è lo stipendio che nonostante tutto vuole anche aumentarsi sinceramente non me l'aspettavo pensavo che volesse rimanere sui 60 mila però vabbè 5 mila euro in più con un milione di bonus in caggio va benissimo abbiamo acquistato anche l'ultimo tassello della nostra squadra doveva essere diciamo Gertruda l'ultimo tassello della squadra alla fine abbiamo venduto un BT ora credo di non vendere più nessuno arriva un gigante come Esteve che effettivamente ragazzi i difensori alti sono utili e adesso ragazzi possiamo far scorrere queste ultime 10 ore secondo me potrebbe arrivare qualche offerta ma nulla di più forse arriva qualche offerta incredibile scioccante che mi faccia dire oddio quanti soldi però allo stesso tempo non credo infatti arriva ancora un'offerta di prestito e ancora Nianzu guerra chiaramente non ci interessa invece Nianzu fino all'ultimo giorno di calciomercato vi vado a chiedere 120 milioni che il Milan di Pioli rifiuta subito eccola qua ragazzi l'ho chiamata l'offerta shock Red Bull Ipsia sul Ribeiro 154 milioni se vi ricordate un po' di tempo fa arrivò un'offerta comunque se non sbaglio nella scorsa puntata sì arrivò un'offerta di 120 milioni o comunque molto alta per DA da parte dell'Udinese infatti dissi se mi fanno un'offerta per Rodrigo Ribeiro quanto mi devono chiedere 250 milioni non sono 250 ma 200 sicuramente sì però 250 è quello che vado a chiedere io visto che ne vale 124 mila non lo voglio assolutamente vendere però 250 milioni diciamo che potrei accettarli però prima e ultima offerta è unica offerta alzano addirittura 196 milioni ragazzi è veramente tanto per un attaccante vediamo un po' se arriveranno addirittura a 250 206 veramente affascinante che siano saliti così tanto all'ultimo giorno di mercato una squadra come l'Ipsia disposta a darci più di 200 milioni di euro alla fine però 250 giustamente sono troppi si continua a insistere per Nianzu tocca a Real Madrid che effettivamente è l'unica squadra che potrebbe forse accettare 120 milioni anche per un difensore forse qualche squadra inglese che non ha mai accettato quindi non lo so se il Real Madrid faccia qualcosa assolutamente no ok ragazzi ultimo giro di lancette si chiude questo calcio mercato che è stato sicuramente veramente bello importante significativo tantissimi acquisti di una squadra praticamente nuova che sicuramente adesso andrà a lottare su ogni fronte comunque a mercato chiuso arriva addirittura il Paris Saint Germain che ci viene a chiedere Nico Williams che è diventato anche un 88 di overhaul vale 121 milioni sarebbe da chiedere anche qui tipo 250 milioni però visto che il mercato è chiuso ne vado a chiedere addirittura 300 così se lo volete per gennaio datemi 300 milioni siete il PSG diciamo che non sarebbe una cosa così assurda per una squadra come la vostra comunque ragazzi abbiamo chiuso veramente con offerte incredibili 120 300 250 veramente abbiamo sparato fino all'ultimo a 1000 proprio comunque ragazzi io qua sono andavanti con i giorni continuano ad arrivare offerte per i nostri giocatori addirittura a Bologna su Osterwald scambio con Oppegard che sinceramente non conosco un atto di alzino sinistro però ragazzi non lo so arrivati a questo punto mi sembra anche stupido andare a trattare con Osterwald potrei farlo perché è un giocatore praticamente che difficilmente crescerà quindi non aumenterà manco il suo prezzo però allo stesso tempo secondo me è inutile andare a trattare solamente pochi giorni dopo la fine del mercato quindi lasciamo le cose come stanno e anche le future offerte che arriveranno andrò a rifiutarle tutte a prescindere comunque ragazzi adesso c'è la partita qui con la nazionale contro l'Italia che io sinceramente mi vado a giocare adesso ma la vado a giocare subito mostrandogli ovviamente semplicemente i gol perché alla fine la nazionale lascia il tempo che trova in carriera in modo che nella prossima puntata ci facciamo tre belle partite la partita contro il Manchester United di campionato campione di Inghilterra in carica l'esordio stagionale in Champions League con l'Atletico e poi sfida al West Ham quindi una partita più complicata dell'altra quindi ragazzi andiamo un attimo l'Italia-Inghilterra partita che è praticamente inutile però mi vado a giocare con la migliore squadra perché comunque è una partita prestigiosa per così dire quindi Ramsder, Cillu, Valben White, Tomori, Alexander Arnold, Rice, Elliot, Bellingham, Foden, Henry Kane e Buka Yosaka e occhio possiamo andare Foden fa correre Henry Kane Henry Kane sempre molto lento però riesce a fare la sponda per Bellingham che spacca tutto grandissimo gol arriva il gol appunto del vantaggio 1-0 occhio qui bravissimo Henry Kane aspetta l'arrivo del compagno da quell'altra parte Phil Foden che trova il semplice gol per 2-0 e ok ragazzi termina anche il primo tempo un ottimo primo tempo da parte nostra si nota proprio la superiorità in campo effettivamente è realistico peccato ragazzi arriva il gol dell'Italia 2-1 praticamente non avevano fatto nulla quindi gol un pochino casuale secondo me qui arriva addirittura il gol di Miretti che giustamente ci può stare che fra 6 anni possa essere non dico un perno però comunque è un giocatore stabile della nazionale occhio valendo avanti verso Tammy Abram faccio che possiamo andare parla dentro attenzione Vail Harvey Vail appena messo in campo riesce a trovare subito il primo gol in nazionale grandissimo Harvey Vail il nostro giocatore che appunto rappresenta il Salford insieme a Ramsdale in questa nazionale però Harvey Vail è sicuramente molto più significativo perché c'è da tantissimo tempo con noi comunque ragazzi 3 a 1 alla fine riusciamo a chiudere questa partita e a portare a casa una vittoria comunque alla fine prestigiosa e ok finisce qua la partita 3 a 1 per l'Inghilterra che va a battere la nazionale italiana e ok ragazzi direi che finalmente possiamo fermarci qua per oggi è stato un episodio molto lungo quest'oggi per me a meno da registrare poi non so effettivamente il video quanto sarà lungo effettivamente appunto comunque allora noi per quest'oggi abbiamo fatto il nostro nella prossima puntata come detto prima Manchester United la Terrico Madrid e West Ham praticamente 3 partite nel giro di una singola settimana e appunto dalla prossima partita si inizierà cioè comunque dalla prossima puntata si inizierà con 3 partite di episodio si inizierà ad entrare proprio in ritmo serrato nella speranza che non si infortuni nessuno che tutti i giocatori riescono a reggere che vada tutto secondo i piani che si riesca a fare il numero maggiore possibile di vittoria quindi ragazzi io per oggi non posso far altro che salutarvi qui come al solito vi invito lasciate un mi piace iscrivetevi al canale a seguirmi sulla pagina Instagram a sostenere il canale tramite una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti 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 Grazie a tutti.